Musica Musica Le impostazioni che è difficoltà normale, aiuto del rompicapi dopo 5 minuti Primo livello, levitazioni giocatori non so che cazzo sia, non le voglio usare Modalità hardcore, abbiamo messo on Modalità personaggi stiamo provando con classica ma mi sa che non possiamo Ma non saltare la storia che è f***a Porca m***a che si chiama Trine Trine era il pisaglio che mi incura il cuore No dai, sta fermo che mi incura Anche brutta Cosa? Un colo gelato No, un coglione dentro... Eh? Lo dico io Comunque guarda, era così anche... Quella ha fucciato il biscotto Guarda, la demo era così anche quella Ah, qui c'è... Eh? Fare salta Sì, io faccio... Cioè, io posso fare salta Sì, io faccio Ah, hai fatto E io ho il fiorellino Amadeus the wizard was asleep in his cottage Te sei quello lichedore Già, ma quando si scelgono i personaggi? Non lo so, però mi fanno iniziare Io sono già nel gioco Eh, anche io Io sto dormendo, sto Allora te fai il magro e faccio l'arciere Ecco Hai capito, è male Sì, sì Ma... Ma... Ma moglie puttana, spengi sto dormendo Un parole favore Ma che c'è 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 Chi è c'è? Chi è c'è? Comunque f... ah vabbè Bello fede, ti colpo... Mi sono clonato Che strano Eh, vai qui che... No aspetta, ogni tanto qui si metteva per la storia Oh cavolo, non avevo furia Oh Non te la lasciare Mario Mancana Che qui No, tu aspetti Cerchiamo di prendere tutte quelle polline lì Sì, è la prima quella Aspetta, aspetta Eh, serve la scafola Do cazzo me la mandi? Ovvio Non serve niente No Aspetta Aspetta, la so prende La so prende Sì, ho capito, lo so che con gli oggetti faccio magie Com'è che fai a bloccare così a babbo le tasse? Eh, te ne premuto con il tasso sinistro Cioè, te lo dici anche sopra Matti me ne una sopra anche lì Non cresce la mia Eh, devi fare una specie di tondo È tondo, porco di... Un quel tondo, un tondo così Vedi? Ah Eh, così sembri un mongolo in cerca della merda Ma, molla? 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 Oh, era difficile Ce n'è uno lassù Aspetta, guarda No, questa la faccio io Non cade Oh, è porzione Sì, è porzione Cado Non cade Non cade Mi figlio per il... Sì, guarda Vai sulla mia cassa Non potrei, mi sa Eh, infatti Sa nulla No, perché non si può Aspetta Intanto tiro giù questo Sì, tiragli una sassata, vai No, ho scoperto la cassa Eh, tira Mi sa che possiamo usare tutti e due l'arcello, allora Sì È cascato Comunque qui dovevi spostare il masso dopo Quei un Amadeus lo può prendere nel culo Qui serve la scatola E qui ci sta un altro di ton culo No No Comunque per ora è straficosamente colorato E non riesco neanche a salire, lo sai Non riesco a salire Ok, ce l'ho fatta Ma fai piano che qui c'è Wow Oh, ce la fa Aspetta Aspetta, arrivo Ma te vedi... Cioè, non vedi più Non riesco a prenderla Ci sono Fermi, fermi Fammi la scatola, vai Eh, fa... Oh, grande Ok, via Comunque evita di nominare Santi Perché poi dopo devo metterci il bip Che bip? No, se no dopo mi stuprano l'orecchio Eh, non bestemmiare Ma chi è che se lo dice Ma chi è che se lo dice? Non lo so E basta C'è il Borgogni È un pezzo È Luca Comunque per capire la storia del due mi sa che dovremmo fare l'uno Io sì, me lo sono comprato Costavo un euro Tuana No, quella lì è un complimento A tempi dei Romani Comunque andiamo con calma Perché se no dopo si perde la storia Con il tasto destro ti c'hai lo scudo Lo sai? Aspetta Ma perché sono il cavaliere sfigato Quello del coso giallo? Ma perché sei sfigato Levate di culo, Anno Lascia fare Luca la vendemmia Cerchiamo di non lasciare niente indietro Non voglio venire Non voglio venire Dove non vuoi? Io uso il martello Ah, è vero, sì Qui ci vuole il martello Uso io Sembra pericoloso Oh, e fai prendere qualche polino a me, cazzo Qui dovremo combattere Oh, e che cazzo Mi faccio il culo rosso Oh no, ci vogliono trombare Annalmente Guarda che figata Quei di colori E' bello che si sdoppia Poi si riunisce Così si sente felice Oh, 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 questo è figo Oh, vai piano che qui c'è da raccogliere la roba che è più nascosta di non so che cosa Qui Eh, cazzo Oh, caspita Oh, caspita Oh, caspita Che sono impedito un secondo E' sempre impedito Aspetta Qui c'era nulla E c'ha fura quell'altro ho mancato una pallina prendila tu adesso lo stronzo di turno aspetta la prendo e la prendo e lo prende sono cascato di sotto superman che si è appeso al cassetto da dove la tira dal polso? qui tocca salire ninja style qui ti brucia il culo vabbè meglio meglio doppia puttanella che tocca a me questa volta i tempi dei romani erano complimenti ma ora mi sa che iniziamo ad usare i vari personaggi di per la sua mamma che iniziamo ad usare i vari personaggi di per la sua mamma